Noi abbiamo il dovere come amministrazione comunale di nominare a mio avviso un direttore di esecuzione del contratto che sovraintenda lo corretto svolgimento di questo servizio. Ed è proprio sulle dichiarazioni del consigliere del PD Antonio Rotundo in merito ai lavori svolti da Lupi e Servizi per la Gestione del Verde Cittadino che non si praca la polemica e nel merito della discussione entra anche Luigi Mazzei, candidato alla Regione Puglia a sostegno dell'uscente presidente Michele Emiliano. Io credo che sia una questione di etica politica. Allora, quando si sta in maggioranza, in maggioranza si discute, si trovano le eventuali soluzioni, ognuno porta le sue proposte, non può entrare in polemica ogni volta pubblicamente con interrogazioni che è uno strumento che prevalentemente viene usato dalle opposizioni. Quindi secondo me è molto semplice, bisognerebbe in questo momento chiudersi in maggioranza, ragionare su qualcosa che magari c'è da correggere o da rivedere, ma bisogna smetterla con il mettere sempre in cattiva luce chi opera sul territorio. Non voglio entrare nel caso di specie perché mi sembra abbastanza chiaro, ma far comprendere che ad esempio la Lupie poteva essere un problema perché non svolge bene il servizio, beh, insomma, mi sembra che questo come messaggio non possa passare, perché noi verifichiamo quotidianamente con l'attenzione ciò che sta svolgendo il nuovo amministratore unico, Consolersia, seguendo ciò che a lui è stato deputato come compito. E non è tutto il verde della città, ci sono altre aziende che intervengono e quindi complessivamente la gestione del verde compede all'ambiente e al suo dirigente. Quindi su questo poi possiamo entrare a parlare all'interno della maggioranza come correttamente si fa sempre. Lei ha mandato un messaggio a Rotundo dicendo, si ricordi Rotundo che è esponente dell'unico partito all'interno di un'amministrazione composta da liste civiche, cosa intendeva? Beh, bisogna anche appunto tener conto che il confronto, se avviene all'interno, può soltanto arricchire, perché ci sono appunto delle altre componenti che sono tutte civiche, molte di queste moderate, hanno bisogno anche di interlocuzione, non ci si può parlare attraverso la carta stampata o i giornali. Grazie. 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 Grazie.